Dicembre vuol dire un anno e mezzo di Campus Italia, un anno e mezzo fatto ad alto ritmo, ad alta velocità, due campionati diversi, andando in crescendo nel mezzo gli europei, questi ragazzi che vivono un'età particolare, quindi una crescita anche loro da ragazzi, aumenti se vogliamo, insomma qual è il tuo bilancio? Per quello passato, come hai detto tu, un anno e mezzo per me è solo che positivo, mi vorrei veramente concentrare in quello che resta, perché non è che resta poi poco, perché resta ancora mezzo anno, per cui l'attenzione che dobbiamo dare al massimo è cercare di arrivare fino alla fine con uno sviluppo tecnico migliore, soprattutto da questo punto di vista far sì che questi ragazzi siano abbastanza completi. Inoltre anche dobbiamo insistere nei prossimi mesi su una nuova difesa, perché abbiamo lavorato quasi un anno e mezzo sempre con la stessa 6-0, ricordo che il nostro obiettivo non è vincere le partite o vincere i campionati, ma è formare questi ragazzi e non esiste che noi alla fine dei due anni non curiamo anche una difesa più aggressiva, che punti a recuperare la palla, al di là di come vada. Per l'anno e mezzo passato molto bene, perché questi ragazzi sembravano andare in A1 a prendere botte a destra e a sinistra, invece a parte queste ultime partite hanno mostrato anche di sapere stare in campo, di vincere e di essere all'altezza. Direi anche che tecnicamente sono migliori di tantissimi giocatori che sono in Serie A. Ed è una Serie A Gold, un'esperienza dei ragazzi in Serie A Gold che sta anche fungendo da vetrina se vogliamo per loro, perché insomma i club italiani devono e si stanno rendendo conto che c'è del talento che arriva poi innanzitutto dai club dove questi ragazzi sono stati selezionati e poi dal lavoro che viene fatto qui. Sì, è vero, perché un conto è dire che hanno lavorato bene, sono cresciuti e è un conto farlo vedere tutti i sabati. Le società italiane vorranno sicuramente fare delle proposte a questi ragazzi perché non hanno l'interesse di prendere stranieri o altri giocatori. Io credo che questo campionato farà in modo di farli vedere. Nel frattempo è iniziata e ha avuto un'accelerata in queste ultime settimane, sei stato spesso peraltro fuori in viaggio per l'Italia, è iniziato il processo di selezione per il bienio successivo, bienio 2006-2007. Che lavoro sta andando avanti, a che punto è, quali sono gli step? Allora, proprio questa settimana abbiamo finito la visionatura di tutte le aree, abbiamo tantissimi nomi, sicuramente alcuni è già certo che potranno far parte della prossima nazionale, ma bisognerebbe poi rivederli tutti quanti in un contesto tutti insieme per poter fare dei paragoni perché a volte ho dato un valore ad alcuni giocatori che sono in un contesto di più basso livello e non è veritiero magari, quindi bisogna rimetterli un po' tutti quanti insieme. Non è male la situazione, devo dire che non ho visto un Manojlovic o un De Angelis, ma diciamo che questi sono talenti naturali che è a fortuna, però i ruoli sono tutti coperti, ero un po' preoccupato nel ruolo del portiere, ma invece ho visto almeno tre o quattro ragazzi molto interessanti. E' già invece delineata la situazione che riguarda la Nazionale Under 21, che giocherà le prossime qualificazioni ai campionati mondiali, chiaramente non ti chiedo un pronostico, però ti chiedo di delineare un pochettino partendo dal girone, partendo soprattutto dalle precedenti esperienze di questo gruppo, di questa nazionale in relazione alle avversarie che troveremo e poi anche parlando del possibile inserimento che ci sarà sicuramente di ragazzi di questo bienio del campus. Sì, in realtà bisogna riparlare sempre di questo bienio qua perché saranno anche in questo caso l'ossatura. Chiaramente alcuni giocatori della Junior sono veramente punti inamovibili, ma diciamo che dobbiamo sfruttare un po' il gioco, dobbiamo riuscire a correre un po' di più, a fare delle rotazioni, è un nostro punto di forza, per cui i ragazzi 2004-2005 dovranno sicuramente aiutare, anche perché purtroppo oltre a Bortoli, che è una pedina fondamentale per il nostro gioco, perché al di là che è Mancino e anche il nostro centroavanti in difesa, si potrebbe aggiungere anche la defezione di Rovatin, che è sotto cura, non sta giocando da due mesi, e speriamo di recuperarlo se non altro per le partite. Intanto anche il Nazionale Senior non è un impegno da poco, visto che c'è questo stagio in Croazia, con due amichevoli proprio contro la Croazia, che intanto preparerà i prossimi campionati mondiali. Sì, siamo contentissimi che la Croazia si accorta di noi, ci ha invitato per la seconda volta, e lo sfrutteremo al massimo, questo doppio incontro, saranno gli unici quattro giorni che avrà la Nazionale Senior e dobbiamo ottenere il massimo da questo aspetto. Non abbiamo potuto programmare niente per gennaio, perché poi abbiamo dato importanza alla Nazionale Juniors, non abbiamo mezzi illimitati, bisognava fare una scelta, e quindi dobbiamo fare il massimo in questi quattro giorni in Croazia.